Alla partenza in Piazza della Repubblica ci sono i politici locali e nazionali, gli attivisti e poi i VIP, quelli di qualche anno fa però riprodotti in gigantografie parlanti. Alberto Sordi nei panni del Marchese del Grillo che dice io so io e voi pagate il pizzo e Anita Egber che come una sirena adesca una Roma priva di tappi di cera, Marcello Clown here. E' il tour turistico Roma città delle mafie, l'appuntamento centrale della lunga marcia della memoria all'evento annuale dell'Associazione Antimafie da Sud che oggi a bordo di un pullman ha mostrato il volto della capitale di cui le guide turistiche non parlano, come spiega il portavoce Luca Salici. Il presidente della commissione parlamentare antimafia del 1991, Gerardo Chiaromonte, fu il primo a dire che a Roma era una città di mafia però da lì questo appello è rimasto inascoltato. Io penso che sia il caso di rilanciarlo e che bisogna essere tanti per poter fare questa battaglia che è principalmente anche culturale. Sette tappe fino a Piazza Bologna dove da vent'anni, denuncia da sud, i commercianti pagano il pizzo passando poi per Palazzo Coc, simbolo delle movimentazioni bancarie sospette, e per il centro dove l'andrangheta è arrivata a cento passi da Palazzo Chigi. In Campidoglio l'incontro con il sindaco Marino che ha promesso una discontinuità rispetto alla giunta precedente. Il consigliere Masini, in odore di assessorato, ha rinnovato il suo impegno verso questo tema. Un bando vero sui beni confiscati alle mafia che sono la base per la riconquista della città in maniera civica, pertanto togliere i luoghi alle mafia e ridonarli alla città, il delegato antimafia, io penserei anche a una commissione antimafia.